Aumento dei canoni delle case ATER, mentre dalla regione è arrivata comunicazione ai comuni della Costituzione in ciascuna provincia dei nuclei territoriali di analisi delle conseguenze effettive dell'applicazione delle nuove norme, il Comitato Spontaneo dei Cittadini di Santa Bona ha consegnato al Sindaco Mario Conte la petizione con la quale si chiede la sospensiva del nuovo regolamento in attesa di adeguati correttivi. Circa 250 firme di persone che hanno sottoscritto questa richiesta di sospensiva e successiva modifica del regolamento regionale che tenga conto di particolari punti, per esempio lo scorpero dal reddito ISE di quelli che sono le entrate derivanti dal TFR o da pensioni di verità civile o da risarcimento assicurativi, pensioni sociali e quant'altro. Insieme all'ex consigliere comunale Renosto anche inquilini che vivono il problema sulla propria pelle, come Roberto Speciali che si è visto più che raddoppiare l'affitto per chi in banca ha 48 mila euro frutto di TFR, risparmi e una piccola eredità. Lei ha portato il suo esempio direttamente al Sindaco, un aumento consistente. Ok, sì, da 180 a 474. Lei da quanto abita in un alloggio ATE? Da 32 anni. E ha un ISE che non supera i famosi 20 mila euro? No, praticamente io arrivo a 19 mila e 80 esattamente con una pensione italiana, una pensione estera e un'integrazione estera alla pensione. Particolari cauteli il comitato le chiede per gli over 75? Perché nel momento in cui si spostano le persone da una casa dove hanno passato un'intera vita e quindi dentro a quelle mura ci sono particolari ricordi legati al marito, al figlio, eccetera, diciamo lo spostamento può creare dei disagi, delle patologie anche in queste persone, soprattutto anziani, che possono avere anche degli esiti in fausti in breve termine. Quindi possono cadere in depressione. Quindi particolare attenzione soprattutto agli anziani che sono per noi le fasce più deboli.